Allora, eccoci qua, siamo nel mio ufficio. Volevo sempre parlarvi di quanto può cambiare il vostro modo di lavorare, non solo l'online, ma anche nella riorganizzazione della vostra azienda nel momento in cui riusciamo a capire le potenzialità dei funnel market, cioè processi di acquisizione di clienti. In particolare, sempre leggendo il libro di Michele Tampieri sui funnel marketing, abbiamo riorganizzato il nostro modo di lavorare, mettendo insieme on e offline. Come potete vedere, passo dal mio ufficio, andiamo nell'altra parte dove c'è la mia collega che fa una parte di processo online. Andiamo insieme, venite con me, ok? Andiamo. Lei in questo momento, siamo quasi in diretta, che potete vedere qua dietro, ok? Vediamo se riesco a riprenderla. Tac, ok. Ci siamo qua, eccola qua. Andiamo un po' più in qua, ok? Siamo in diretta. Ecco, bravissima. Per aver effettuato la nostra demo. Sì, sono passati dieci giorni e la chiamavo perché c'è un'offerta in questo periodo che sono tre mesi di professional a 89 euro. Quindi lei praticamente ha tre mesi e col prezzo solo di un mese. Sì. Ok, guardate, sta facendo in questo momento, ok? Basso la voce, se non ci riprende. Ok, la lasciamo lavorare, ritorniamo di là. In questo momento, a tutti coloro che sono nel periodo della demo, perché noi diamo una demo che produce una soluzione e-learning, noi li richiamiamo anche telefonicamente, per cui le richiamiamo dopo l'utilizzo della demo per sentire come sono andati. E abbiamo realizzato poi un one-time offer, cioè un'offerta, come potete poi leggere una delle tecniche sempre che trovate nel libro. Questo per avere una relazione sia automatica, ma è semi-automatica, di acquisizione del nostro cliente. Come abbiamo integrato anche una serie di azioni di sales letter che vengono inviate a particolari clienti nel momento in cui noi facciamo un'attività. Pertanto tutti i processi di vendita vengono rivisti da modalità online tramite i funnel. Il funnel serve per monitorare lo sottavanzamento del nostro utente, del nostro contatto. Ovviamente abbiamo inserito una risorsa che fa una parte del processo in diretta con uno script che ha ovviamente una sua procedura. I funnel aiutano a riorganizzare anche questo, ecco perché ti cambia proprio il modo di fare imprese, di fare business, grazie al sistema del funnel marketing. Per quello cosa posso dire? Leggete le pagine, leggete il libro di Michele, è veramente interessante, mi ha servito molto. Questo è un esempio pratico di come poi in azienda puoi inserire nuove risorse nel momento in cui hai una visione più concreta e precisa di quello che è il mondo dell'acquisizione dei clienti. Grazie a voi e buon lavoro, buon funnel! Grazie a voi e buon funnel!